Sono a Napoli perché è la prima volta che Napoli mi invita a presentare un mio lavoro e lo devo a Carolina Rosi perché lei ha voluto questa mostra a Napoli. Io sono molto contento perché era l'unica città dove non l'avevo mai fatto dal 50 quando ho iniziato a lavorare, sono tanti anni, una vita. Era l'unica città che non mi aveva mai invitato, cose che succedono, niente di particolare. E mi mancava Napoli nel calendario italiano e finalmente con Caterina e Napoleone che ha allestito e con Carolina che l'ha voluto sono qui da voi a Napoli, una città che amo, bella, fascinante, divertente. Stanotte con il temporale, i tuoni ero pure in sveglio.